Un onore averti ai nostri microfoni di Targato CN, ecco qui fa vedere il premio Gasco che ha ricevuto proprio questa sera, leggiamo anche la motivazione per il coraggio, la forza d'animo e lo spirito di altruismo che caratterizzano ogni sua attività. Una dichiarazione, una motivazione che calza pennello. Sono io, esatto, ma sono tanto felice perché all'interno di questo prestigioso premio ho rappresentato la categoria dei paralimpici, quindi è la prima volta che viene dato un premio a un'atleta paralimpica, un'atleta donna, quindi spero che questo possa essere l'opportunità per aprire le porte ad altre che verranno dopo di me. Ma la cosa più bella è che grazie allo sport si possono raccontare le storie, le emozioni, il coraggio di amare la vita, perché ci vuole coraggio ad amare la vita e lo sport tante volte ce lo insegna, quindi sono felice se in qualche modo ho potuto rappresentare anche questo. E questo è un grandissimo messaggio sicuramente che lanci e ti chiedo anche se vuoi lanciarne un altro, ovvero quale consiglio ti senti di dare a quelle persone che quotidianamente lottano contro le loro difficoltà, che possono sfociare in diversi ambiti e qual è il segreto per avere sempre sorriso sulle labbra? Ma il segreto è non guardarsi troppo indietro, perché se stiamo lì a rimorginare su quello che volevamo fare e non abbiamo fatto, su quello che è successo ma non possiamo cambiare, alla fine ci viene un male e soprattutto le rughe non ne vale la pena, quindi dobbiamo guardare al futuro con coraggio e propositività e dobbiamo imparare ad apprezzare veramente ogni giorno una piccola cosa, perché se noi ci sforzassimo tutti quanti sono convinta che nella vita di tutti ogni giorno un momento, un minuto, un secondo, un motivo per sorridere ce l'abbiamo tutti, basta cercarlo, credo che questo sia un po' la ricetta della felicità ma il consiglio che do a tutti veramente per sorridere alla vita perché se no ragazzi qui si scatena un contagio di negatività, invece noi vogliamo i contagi di positività, soprattutto per i più giovani che ci guardano. Parole davvero da campionessa, quale tu sei e non posso non chiederti a questo punto un commento, ti chiedo se è la prima volta intanto che vieni qui nelle nostre zone e se hai avuto modo di visitare Mondovì, insomma le nostre località. Guarda che io ho abitato due anni nelle Langene. Attenzione, questo è uno scoop, ti do uno scoop, io prima dell'incidente nella mia vita di prima lavoravo per una grossa azienda ad Alba e viaggiavo molto però facevo base qui e quindi ho imparato un po' a dire ne, ho imparato ad apprezzare il tartufo e mi piace perché poi alla fine non è vero il detto quello lì, no, piemontesi, false e cortesi, ma chi l'ha inventato? Non è vero, io ho trovato i miei più grandi amici proprio in Piemonte. E allora grazie Giussi Versace dall'animo anche un po' piemontese per la sua disponibilità e complimenti per il premio. Quindi dobbiamo dire ci vediamo presto, ne? Cerea!